Mi propongono quest'idea di creare un personaggio, un personaggio diverso ma non completamente distante da me. Sono nato da pochi mesi in Italia, dopo un'intensa vita vissuta negli States. Siamo riusciti a far passare notizie come la mia band fosse qualcosa di fondamentalmente grande in America. Tutto parte dalla creazione di un'identità fasulla e creare un'identità fasulla è semplicissimo. Un articolo del 2020 che in realtà parla di un evento del 97 dovrebbe essere quanto meno strano. La gente non le guarda questi dettagli, è incredibile. Una sorta di bolla, di sordine informativo. Potrebbero valorizzare determinate società più coerenti con la propria politica. Hanno individuato tentativi di manipolazione di campagne elettorali. Un messaggio che interna social network si diffonde in maniera incontrollata. A questo punto il vero quesito è di cosa ci possiamo veramente fidare. Сltica la sua propria opinione è stata una propria politica.